Fede ma davvero quest'oggi utilizziamo una playstation dentro minecraft? Esatto Steph e puoi giocare anche a minecraft dentro minecraft con la playstation Ma sei sicura? Sembra un'inception Steph però si 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 può fare adesso tu lo vedrai Questa playstation gigantissima che abbiamo qui sotto Steph si può accendere Ma quanto è grande? Eh tanto 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 guarda il joystick quanto è gigante Baglio o è più grande della play? Eh penso proprio di sì E non è normale no? Eh no vabbè almeno il controllo di tutto guarda lo schermo quanto è gigante Certo che ci vuole un joystick grande Ti dicevo Steph prima che mi interrompessi puoi fare di tutto Puoi navigare nella playstation puoi selezionarti i giochi e così via Quindi che dici vuoi provare ad accenderla? Aspetta no ok vai ci sono stavo controllando cose ma stavo scoprendo i segreti della mappa Quindi è meglio non spiare troppo No Steph devi stare solo fermo qui non te ne andrei in giro Scusa mi ero curioso Allora ti spiego Steph Sì sei tu l'esperta Io sono l'esperta Tu praticamente puoi utilizzare se sei un po' nab e non conosci i tastini del joystick Puoi utilizzare la playstation da qui Però secondo me la cosa più bella è andare ad accenderla direttamente dal joystick Ok Quindi andiamo Davvero si può? Cioè tu vai e schiacci il tasto esatto Steph come nella realtà come l'accendi la playstation Cioè si schiaccia qua adesso l'acceso? Esatto Ma sei seria? Vedi si sta accendendo adesso Oh mio dio Devi aspettare un pochettino perché giustamente c'è il caricamento Steph Ed eccola qui Non è possibile Wow Che figo Sì è possibile Steph Possiamo fare un sacco di cose quindi adesso aspetta ovviamente che si accende E vedrai tutto quello che si può fare Steph È bellissima eh Davvero bellissima Non ho idea di come abbiano fatto a creare una playstation dentro minecraft Meglio non chiederselo Io non lo so infatti tu stavi per andare a scoprire i segreti Ma non lo fare Steph È meglio tenere il fascino del segreto in questo caso Allora ci ho chiesto di premere il tasto home comunque No in effetti ci siamo un po' addormentati dovevi ripremere sto tasto qua Steph Ecco fatto ci penso io L'hai fatto? Perché altrimenti non si va avanti Sì eccoci qua nel menu E qui in pratica puoi sfogliare Cosa vuoi fare? Dimmi un po' Allora no ci penso io Tranquilla Ok Tranquilla Credo di saperlo utilizzare Spero Allora vado qui Quindi faccio tipo così Esatto questo è il negozio Ok Questa è Minecraft Ma io voglio prima andare in questo Ok Allora quindi devo premere X Ti aiuto o fai tutto? No 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 io non ho aiutanti Io volevo dividere i compiti perché Ma cos'è in mano Steph scusami? Un blocco Perché è un blocco? Perché prima ho spaccato un blocco per il sbaglio Toglilo Ma che devi andare in giro con un blocco Sonic mania Ok allora quindi questo è il nostro primo videogioco di oggi Ciao Sonic C'è pure il film fra poco per quello l'ho selezionato Ah bellissimo Sai che non lo sapevo? Come hai fatto a saperlo? Ho visto il trailer Fere Perché sono un essere umano normale Che sa le cose che accadono nel mondo Io non so mai niente di cosa succede nel mondo È bello il trailer? Eh no Mi parli tutto così mi dici di no Allora premi X questo lo faccio io No Sono più veloce di te Fere smettila Mi raggiungerai mai Smettila Fere Pam L'ho premuto due volte adesso No l'abbiamo premuto due volte E poi non è successo nulla Fere Allora No sì come non lo vedi? No Abbiamo cambiato la schermata Steph No Mi sa che non devi premere i tasti al posto mio Fere Ora è appena cambiata Ok Quindi vedete lì non ha il permesso Ma scusa se tu li premi io vedo le cose che cambiano Che vuol dire Steph? Invece al contrario no Cosa devo fare? Ripremere X? Eh forse sì Per selezionare il tipo di gioco La modalità esatto Prova Eccoci qui Eccoci qui No io sto vedendo le cose in realtà Eccolo 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 Vabbè Steph Oggi non stai bene Allora Un po' di mal di testa e vedi le cose dopo Vai riseleziono qua Perché mi sembra tutto a posto Opla Ok Vediamo che succede Ok zona numero uno Ma dobbiamo giocare davvero Fere? Penso di sì Ma siamo in due? Eh no Ah sì Vedi che ci sono due giocatori A capire che siamo in due Ci spia Ma che ne so Certo che ci spia Aspetta però eh Io provo ad andare avanti eh Ok Vado Che paura Se si muove mi viene un colpo Hai premuto? Sì Guarda se succede qualcosa prima anche tu Da me no Cioè non mi sembrano Forse allora non è che puoi effettivamente Giocare come il gioco vero Ma puoi stare così ovviamente a vedere Ti si avvia Dici Eh penso che sarebbe troppo complicato far muovere anche il personaggio Vediamo Prova Eh sì 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 Non succede nulla vero? Mi sembra che così ti porta dentro il gioco E tu puoi vedere il gioco Sì ci sta Ci sta ovviamente Steph Altrimenti sarebbe Fantascienza quella Sì non va non va non va Confermo Ok allora cominciamo dall'applicazione Teoricamente con questo Vediamo Oppure se non ricordo male Sì toni direttamente là Ma anche il cerchio ti serve ovviamente per tornare indietro Perfetto Allora E mi avevi detto che si può tipo personalizzare la Playstation Sì Come? Qui sopra Ah no aspetta stai fermo lì Dimmi di che colore la vuoi Puoi scegliere il colore della Playstation che è lì di fronte È il colore del led Che sta qui nel joystick Rossa Tutto rosso? La play Allora la play rossa Fammi vedere perché devo vedere a cosa corrisponde Guarda faccio le magie Questo è un bel rosso Vado Dovresti vederla che inizia a cambiare colore Oh mio dio Esatto È appena diventata rossa Fere E il led di che colore lo vuoi? Led Lo voglio Rosa Ok Così è felice anche Fere Esatto Ta da Che figo E poi guarda la cosa carina È che puoi farla così Ci sono anche le skin Aspetta Vediamo se ti cambia Questa è una skin verde Ok Ok E poi c'è anche la skin Evidentemente un suo fan di PewDiePie E quindi diventa come il banner del suo canale Capito? Aspetta perché ci mette un sacco Voglio vedere se compare anche il Brofist No compare Questo è il banner del suo canale C'è il presente? In quello verde c'era il Minecraft C'è il Creeper Ah sì non lo vedevo Aspetta 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 Per quello te l'ho detto Però l'ha caricata dopo un po' di tempo Allora aspettiamo Guarda Vediamo un pochettino Vedi? Ah eccolo Carino Sì ovviamente ci mette un po' a caricare Teniamo Minecraft Siamo su Minecraft Quindi teniamo Minecraft Allora lasciamo Minecraft Ok Adesso voglio provare ad andare a vedere che cosa c'è nello store Anzi vediamo gli achievement che abbiamo fatto Perché secondo me siamo stati molto bravi Opla Sono entrato Non penso che puoi entrare negli achievement Steph Perché gli achievement sono delle notifiche Lì non entri negli achievement Io direi O di guardare lo store Magari vediamo se c'è qualche Mi sta rovinando le cose Mi sei molto antipattica oggi E poi ti ho detto di non usare le mie cose Ma è lo store Premix Muoviti Non mi dare ordini Premix È la mia Playstation Uh Rocket League FIFA Ma secondo te li dobbiamo comprare o li possiamo aprire Perché magari è una Playstation un po' diversa Vediamo Proviamo Rocket League Ah proviamo aprire FIFA Vai Come non si apre perché li dovresti comprare Uh È successo qualcosa? No mi sa di no Mm Eh no te li fa solo vedere Perché Stefano li abbiamo acquistati giustamente E allora proviamo Minecraft Scusami Aspetta Uh Ma sì Quanti ce ne sono? Ok avevo ragione Allora quello è NBA Quello credo sia The Witcher Però l'hanno pixelato un po' troppo Non capisco Ma credo sia The Witcher comunque Poi cosa abbiamo? Ma quello è Overcooked? Sì Vero? Hai un po' di difficoltà a riconoscere Human Fall Flat Quello giù Al centro Sì E quell'altro mi sa che è Speedrunner Ti ricordi quel gioco dove si faceva tutto il parkour velocissimo? Certo che mi ricordo È quello È quello È quello Ma hai ricambiato? O mi sa che abbiamo finito? Perché io non ho visto ricambiare No non cambia Penso che abbiamo finito E quello shop È solo questo Ok allora bisogna tornare indietro Ci pensi tu? Sì Dovrebbe essere tutto che credo Sì mi riporta il menu? Sì 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 Da me ancora no Eh vabbè però siamo nel menu Fidati Steph Eh ma io non lo vedo Allora riprovilo pure tu se non li vedi Ma perché tu hai la Playstation Guasta Steph? Devi sempre rompere tutto Perché è antifere Quindi se ferre tocca si rompe Non è vero Io questa l'ho provata prima che tu arrivassi Ed era tutto perfettamente funzionante Ma le foto ci sono? Perché giustamente mi do Cosa? Che foto? Eh c'è la sezione foto Non lo so Steph Provaci Io volevo andare su Minecraft E mi stai distraendo due ore con un sacco di cose Io voglio provarla bene la play Vedi qualcosa? No secondo me non c'è nulla Ci ho riprovato? Aspetta sì Vai Aspetta Ripremi E sono curiosa di vedere che foto abbiamo Siamo in una cartella Non ci sono immagini Ma no Ma mi puoi andare qui giù Per poi dirmi che non c'è nulla Ma perché puoi farle le foto Capito? Eh penso proprio di sì Sì c'è il tasto Io l'avevo letto Però Ferre non sa usare la Playstation E dice di saperlo usare Non ne so fare neanche nella realtà Basta premere uno di quei due tastini al lato Però mi pare quello di sinistra È che non ci sono le scrittine Quindi mi viene il look Comunque Steph Le foto si fanno molto semplicemente Vedi gli screenshot di Minecraft Sì te l'ha appena spiegato Te lo diceva Non l'ho letto Vediamo adesso vediamo No voglio vedere Se io lo metto Prendimi screenshot Io sono piena di screenshot di Minecraft Vediamo Ah Dici che prende il tuo? No Peccato Hai visto? Forse li dobbiamo fare ora Aspetta Neanche Aspetta No È troppo tardi È troppo tardi No ma tu dovresti premere questo Questo qui Guarda Tu fai così Ok Rivai nella galleria Ok sì Ok Screenshot Aspetta Deve andare verso il basso Esatto 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 L'abbiamo appena fatto Vedi che non sa fare nulla No lo dobbiamo fare ancora Premix Ok sì ho capito Che la stiamo facendo L'ho capito Non mi rompere Devi sapere rovinare Le giornate della gente Tu eh Sei tu che Ok l'abbiamo salvato Adesso 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 devi fare così Dobbiamo tornare indietro Ovviamente Esatto Poi Bisogna andare Andiamo nelle immagini Due volte alla destra Che bravo Che sono Ci sei? Certo che Per fortuna Non siamo così piccoli In un mondo così gigante Altrimenti Giocare ai videogames Sarebbe difficilissimo Stef Difficile e poco Comunque non abbiamo fatto Un bello screenshot Però è giusto per provare Vediamo Uno Due Sì Perché tu dici No Siamo tornati indietro Ma noi abbiamo fatto La foto di questo E quindi abbiamo fatto La foto Ah è vero Sì perché abbiamo fatto La foto di questo Infatti se vedi Dice slot Uno di venti Ok ci abbiamo fatta Adesso Ma scusa Siamo tornati indietro Non capivo E invece no Eh lo so Ti hai intrippato Ok adesso giochiamo a minecraft Ovviamente Lo vorrei fare da due ore Fere Te lo sto chiedendo Da tantissimo tempo Non ho notato Guarda Un altro Ok vuoi premere Premo X Sì Stef ovviamente Va bene Allora vado Mi lancio ad altissimo Per colpa sua Non lo vedrò per dieci anni No invece l'ho visto subito Ok Ma perché Perché non c'è violenza Su un minecraft Mojang Non è vera questa cosa Allora Cosa facciamo I minigames Sicura? Boh Scendo? Vai What's up Vediamo i minigames Cosa sono Vai Cioè c'è un sacco di roba da provare Quindi Vai Classifica Help E poi non lo so Battle Vai Battle Figuriamoci Lo sapevo già Opla Noi ho messo tumble Ho sbagliato Allora mi permetto X Perché cavolo E l'ho premuta Vai su Vai su Aspetta Sei un trippato Vai Ok premuto Niente Secondo me non lo stai premendo Si che l'ho premuto Si sposta L'ho premuto Lo vedi Si sta anche abbassando Secondo me non funziona È l'antifere È l'antifere È normale Non funziona Non funziona Torniamo indietro Andiamo nel gioco normale L'ho mancato Ma come fai Sono giganti Quei bottoni Vai Devo fare io Allora play Opla Ok PS4 Sì ci va bene Ok Questo è il nostro mondo Creativi Creative Vai tutto giù Eh Cosa scegliamo Ci sono tante Tante opzioni Il terzo No il quarto Quella sorta di mela Fragola Super cadina Ah no Dobbiamo andare prima giù Scusami Vedete qual è il problema Uno Ci sei Ci sono Sì Ok Vai Non si capisce nulla Vado Metti la seconda Ma non si può No Boh Vieni a premere Cioè non riesco a muovermi qui dentro Ma arrivo No secondo me non va Forse ne puoi selezionare solo uno Volevo un mondo strano Anche io Ok No sei sull'od adesso E quello è il problema Devi andare più su E ora E sull'od Io non lo vedo Carica Vabbè carica Fere Allora vai X Vai Ok Io continuo a non vedere le cose in questo momento Opla Vediamo se ce la facciamo Ok Si sta caricando Sta installando Il server Ok Vedremo il mondo Ma E ovviamente vediamo il nostro stesso mondo Ovigliaco Che è uguale identico Ci sono anche le piattaforme lì in alto Hai visto? Si è la stessa cosa È uguale identico Si 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 Quella la tv Quindi in pratica guarda Adesso c'è Stef Un intrippamento incredibile Perché tu sei su Minecraft Con la Playstation Che giochi a Minecraft Mentre sei con la Playstation Cioè non fa Intrippa solo a dirlo Stef Non lo puoi neanche dire Infatti non ripeterlo Perché altrimenti mi esplode il giardello No esatto Non si capisce nulla In ogni caso Fere io direi che ci possiamo fermare È stato carino provare la Playstation Soprattutto la cosa di poter modificare L'estetica Era veramente veramente carina E anche quella di poter fare comunque le foto Lo rendeva davvero davvero carino Speriamo che vi sia piaciuto anche voi Qua sotto come sempre Come per altri video Iscrivetevi al canale Campellina E ci vediamo al prossimo video Ciao ciao